Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video, io sono sempre Aaron Blaze e anche questa settimana ci ritroviamo a parlare della versione 1.7. Ne parlo in questo video perché ancora non si è visto il nuovo snapshot, per cui ho voluto fare questo video per riassumervi le importanti informazioni che sono uscite in questa settimana. Per cui partiamo subito col parlare del post che hanno messo sul sito ufficiale della Mojang, in cui si dice che questo update si chiamerà World Generator Update, vale a dire l'aggiornamento del generatore dei mondi, se vogliamo tradurlo in maniera letterale. Perché nasce la necessità di fare questo aggiornamento? Nasce dal fatto che quelli della Mojang hanno voluto affrontare il problema di tutti i difetti presenti nei vari biomi, presenti nella generazione del mondo, tutti insieme, in questo unico aggiornamento. Piuttosto che farli un po' per volta, perché delle modifiche nella generazione del mondo, così come l'aggiunta di nuovi biomi, sono sempre qualcosa che modificano pesantemente il gioco, spesso portando i giocatori a dover costruire nuove mappe, creare nuove mappe, per potersi godere al pieno le novità introdotte. Per cui hanno pensato di fare tutto in una volta sola, tutto in un aggiornamento solo e togliersi questo problema, non dico per sempre, ma per lo meno per un sacco di tempo. Quindi, quali erano i problemi principali da cui sono partiti? Il problema numero uno, che faceva pensare fra l'altro ad un Ocean Update, è il problema degli oceani. Questi oceani così vasti, troppo larghi e troppo vuoti. Quindi, problema numero uno, gli oceani troppo vasti. Problema numero due, i biomi che si generano in maniera random. Per cui è facile trovare, per esempio, un deserto vicino alla taiga, come ho spesso detto, o una giungla vicino a una piana ghiacciata, che sono cose assurde. Quindi questo l'hanno voluto migliorare. E infine, non c'è abbastanza varietà di biomi, diciamo. Non c'è abbastanza varietà, significa che sono sempre gli stessi biomi e soprattutto sono sempre uguali tra di loro. E infatti, come state vedendo nella mappa, vedete questi continenti che contengono tutti i biomi, diciamo, insieme, vicini, ma sono completamente messi sparpagliati, sono tutti uguali tra di loro, e poi c'è questo oceano, appunto, troppo, troppo largo. Quali sono state le soluzioni? Allora, parliamo innanzitutto dell'oceano. Vi faccio vedere la nuova mappa. La mappa di un mondo in 1.7, così com'è a questo punto. Ora, la soluzione principale che è stata adottata per l'oceano è stata quella di rimpicciolire gli oceani in una maniera inverosimile. Cioè, guardateli come sono diventati piccini. Non sono più oceani, in questo modo sono a dir tanto mari, ma sembrano dei laghi. Ora, faccio una piccola critica alla Mojang per questa cosa, perché secondo me hanno toppato sotto questo aspetto. Gli oceani troppo piccoli. E, difatti, come vi mostro in quest'altra immagine, poco dopo aver postato la prima, ma Jeb ha voluto correggersi e ha voluto ingrandire gli oceani e quindi questa sarà la mappa di un mondo per la 1.7, perché appunto la community si è subito lamentata di questi oceani che di colpo diventano troppo piccoli. Ok, va bene che li ha ingranditi un po' adesso, però non sono più oceani. Cioè, è vero che erano troppo grandi come erano prima, però è quello il senso di un oceano. Una massa d'acqua sconfinata che, diciamo, circonda e fa da contorno a tutti i continenti. Oramai non ci saranno più questi oceani, ma ci saranno questi mari, questi laghi, belli grandi anche di 3.000 blocchi di larghezza, ma comunque sia, non sono più oceani veri e propri e saranno loro ad essere circondati dalle terre emerse, queste terre che si estenderanno all'infinito. Ok, detto questo, che secondo me è un aspetto molto negativo degli oceani, ci sono anche cose positive. Prima di tutto le scogliere, che ne abbiamo già parlato nell'ultimo video, che aggiungeranno, diciamo, personalità agli oceani, e soprattutto, come vedete in questa nuova immagine, le isole. Gli oceani sono finalmente pieni di isole, e questa è una novità molto interessante. Malgrado Jeb, nell'ultima immagine che ha messo, ha tolto le isole, penso per mostrare quanto siano realmente larghi gli oceani, perché con tutte queste isole sembrano veramente piccoli. Se le togli, sembrano un po' più grandi, è un effetto ottico. Però la community ha subito temuto che questo voglia dire che ha già tolto le isole, ma io non penso assolutamente sia così, e penso sia stato solo un modo per mostrare questi benedetti oceani. Quindi le isole ci sono e resteranno. Un'altra modifica subito visibile rispetto ai vecchi mondi è che in questo oceano ci sono delle macchie più scure. Queste macchie più scure ci fanno pensare a dei fondali, dei fondali più profondi, magari qualcosa di diverso. Magari ci troveremo qualcosa in questi fondali. Che siano navi affondate, barriere coralline o mostri, non lo sappiamo, ma già che abbiano un po' variato il fondale, mi piace molto come cosa. Quindi diciamo che l'oceano, se la cavano così, l'hanno voluto sistemare in questo modo e penso che non ci sia altro da aggiungere per quanto riguarda l'oceano. Passiamo a come hanno ordinato i biomi. D'ora in poi i biomi verranno divisi in quattro categorie. I biomi innevati, i biomi freddi, i biomi con temperatura normale, quindi diciamo mite, e biomi caldi oppure secchi. Questa divisione permetterà di gestirli meglio e quindi di affiancarli in una maniera che abbia più senso. Quindi magari un bioma caldo sarà affiancato al massimo a un bioma normale, non a un bioma innevato. Ovviamente questa legge non varrà per tutti i biomi e qua e là capiterà ancora di trovare delle incongruenze, ma saranno solo minimi dettagli che non ci disturberanno più come fanno ora. Per invece aumentare la varietà, come già stato detto, hanno aggiunto un sacco di nuovi biomi, ma soprattutto la maggior parte dei biomi avrà delle variazioni, delle varianti, meglio dire, delle varianti che saranno rare e poco comuni, per cui ci potrà capitare di imbatterci in questi biomi che avranno qualcosa in più, una variazione, una modifica, che saranno sempre un tocco di originalità e farà sempre piacere e anche, diciamo, spingerà i giocatori all'esplorazione. Detto questo, per migliorare questi nuovi biomi, queste varianti, verranno anche aggiunti un sacco di nuovi fiori. Ne abbiamo parlato nell'ultimo video dei fiori, per cui andatevelo a vedere. E aggiungerà anche dei nuovi alberi. Ora, non si sa che cosa intende per nuovi alberi, se sono per esempio quelli della foresta di conifere, sono sempre gli alberi della taiga, sono solo modificati in altezza e larghezza. Quindi non so se ci saranno veramente alberi nuovi, con nuovi tipi di legname, o se intendeva semplicemente dei fatti in maniera diversa. Io, personalmente, spero che ci siano alberi nuovi, proprio nuovi tronchi, nuovo legno, nuove foglie, qualsiasi cosa. Spero soprattutto di vedere degli alberi fioriti. Quindi, il mio sogno, essendo io un notaku o giappominchia, se vogliamo, il mio sogno sarebbe vedere i ciliegi in fiore. Però, questa è solo una mia opinione e lascia il tempo che trova. Quindi, vi ho appena riassunto quanto c'era scritto in inglese sul post che è stato messo dalla Mojang sul sito ufficiale. Ora, analizziamo meglio la nuova mappa. Io, per comodità, prenderò quella che ha gli oceani ancora troppo piccoli, quindi non quella definitiva. Come vedete, nel cerchio che vi metto sulla mappa in giallo, c'è questo bioma strano, questo bioma di colore rossastro, che sembra essere un bioma raro. Ora, sappiamo che come colore si può avvicinare al nuovo bioma fatto di argilla, quindi deserti rocciosi o canyon, che dir si voglia. Però, sappiamo da questa immagine che il canyon, nella mappa, ha quel colore bruttissimo, ocra, misto, color fogna, schifoso. Comunque sia quello che vedete affiancato ai deserti, che sono messi in arancione. Invece, questo bioma di colore rosso non si sa che diamine sia. Quindi, a quanto pare, ci sarà un altro bioma nuovo, che sarà questo qui, misterioso, di cui ancora non si sa nulla. In particolare, nel cerchio c'è una strana macchia, rosso barra marrone, che ricorda la forma di un vulcano. Ora, non vorrei alimentare l'hype per nulla, però a me ricorda, visto il colore, visto la forma, mi ricorda proprio un vulcano. Quindi, che sia arrivata l'ora, finalmente, di avere i vulcani in Minecraft, non lo so, non lo so. Però, questa mappa, questo bioma raro, con questa forma strana, colore rosso, boh, a me fa pensare solo a quello, non riesco a pensare ad altro. Però, è una mia speculazione. C'è da dire che ci sarà questo bioma, ancora sconosciuto, ed è da scoprire. Oltre a questo, ho notato una cosa molto interessante nelle zone desertiche. E, come vedete sempre nel cerchio, ci sono queste macchioline verdi in mezzo ai deserti. Queste macchioline hanno il colore del bioma delle pianure. Ma non è questo il senso. Cosa ci fa una macchiolina così piccola in mezzo al deserto? Io direi che siamo di fronte alle oasi, quindi finalmente avremo anche le oasi in Minecraft. Immaginate di esplorare questi sconfinati deserti e di colpo beccarvi lì un pezzettino di prato, di erba, con una pozza d'acqua e qualche albero. Sarebbe veramente uno scenario mozzafiato. Quindi, dalla mappa direi che non ci sono dubbi, sono proprio oasi e non vedo l'ora di vederli in gioco. Ultima cosa da notare in questa nuova mappa è che i biomi innevati, in particolare le pianure innevate, sono molto più rare, se vogliamo. Diciamo che, sì, hanno aggiunto tanti nuovi biomi, che hanno anche temperature diverse, che non hanno la neve, e quindi, dovendoli mettere nell'equazione e bilanciare la distribuzione di tutti i biomi, quelli innevati sono sempre di meno in proporzione rispetto a tutti i biomi, rispetto al totale. Però, comunque, sia un dettaglio. Una cosa che invece mi è saltata subito all'occhio sono le Mushroom Island, o, se vogliamo in italiano, le Isole dei Funghi, che sono segnate con quel colore rosa fucsia, e come vedete ce ne sono molte di meno. Essendo Isole dei Funghi ed essendo gli oceani diventati minuscoli, è ovvio che anche queste diventeranno sempre di meno. Saranno di meno, ma saranno anche più facili da trovare, perché sono molto più vicine alle terre emerse, e quindi ci capiterà di trovarle così casualmente, al posto di dovercele cercare navigando in pieno oceano. Quindi, per quanto riguarda i biomi, vi ho detto tutto. Tutte queste novità ci vengono date da Jeb. Ora passiamo a quello che ci ha detto Dinnerbone. Dinnerbone, in un video a cui ho partecipato recentemente, ha parlato di pesca. La pesca, vi dico da subito, che non sarà subito implementata perché ci sta ancora lavorando. Ma comunque sia, le novità che verranno inserite ci sono già state dette da Dinnerbone in persona. Prima di tutto non si pescheranno più solo pesci, ma si potranno tirare su 10, 15, è ancora da scegliere la quantità, differenti oggetti, tra cui immondizia, e non si sa cosa intende per immondizia, magari stivali di cuoio, boh, è un'idea. Le targhette, le name tags, si potranno pescare, quindi questa cosa è fighissima. Si potranno pescare delle canne da pesca consumate, ma anche nuove, e potranno essere anche incantate, per cui vengono anche introdotti gli incantamenti per quanto riguarda le canne da pesca. Incantamenti che potranno aumentare la percentuale di successo nella pesca. Oltre a questo verrà cambiata probabilmente l'animazione di quando viene tirato su il pesce o il risultato della pesca, e ci saranno un sacco di particelle, io suppongo che intenda particelle d'acqua, quindi immaginiamoci il pesce che non si lascia pigliare e partono schizzi d'acqua in ogni dove. Detto questo, in questi 10, 15 oggetti che si potranno pescare, magari ci sarà anche qualche pesce in più, quindi qualche varietà in più di pesce, questo non lo si sa, è solo una mia idea. Oltre a questo, Dinnerbone ha anche voluto parlare degli squali, dicendo che non li vuole inserire nel gioco, e ha piuttosto lasciato intendere che gli piacerebbe inserire il Kraken. Il Kraken sarebbe una cosa fighissima. Io ce lo vedrei perfettamente come boss del mondo normale, quindi un boss oceanico, e vabbè, questa è solo un'idea, forse un suo desiderio, non è una funzione della 1.7, ma chi lo sa, magari in futuro potremmo anche trovarci un fottutissimo Kraken gigante nel ben mezzo dell'oceano. Vedremo. Ultimissima cosa che ci viene detta da Dinnerbone, o meglio ci viene mostrata, è la nuova schermata delle opzioni per quanto riguarda il suono, il volume. Come potete vedere in questa nuova schermata, ha aggiunto un sacco di nuovi livelli di volume, nuovi livelli irregolabili, per cui vediamo per esempio il suono del clima, quindi se piove possiamo abbassare il suono della pioggia che è sempre fastidioso, possiamo abbassare i versi e i rumori che fanno i mob, oppure quelli che fa il player, oppure tante altre cose, quindi ci permetterà una gestione del suono molto più specifica, e molto più adatta alle esigenze di ogni giocatore. Detta questa ultima cosa, io vi rammento che, come sempre, metto le fonti in descrizione, e semplicemente sarà il sito della Mojang e i Twitter di Jeb e di Dinnerbone, quindi se volete controllare troverete il link in descrizione, potete guardare tranquillamente e verificare che le mie notizie siano tutte vere. Detto questo, non ho più nulla da dirvi, ci vediamo alla prossima settimana, per questa tipologia di video ovviamente, speriamo finalmente nello snapshot, se ci saranno invece altre novità di cui parlare, sarò sempre qui per raccontarvele come ho fatto in questi ultimi video. Per cui, per oggi è tutto, un saluto da Aaron Blaze e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!